musica quando li ho visti mi sono emozionato adesso capirete perché guardate guardate il colore la colonna la bellezza non aggiungo altro per ogni parola dei documenti inutili che meraviglia vediamo se non c'è una foto il colore ha questo colore mi fa impazzire ragazzi qua non commento sono senza parole guardate questo 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 hanno anche tanta bellezza che elegante la reglatura ci lascia la bocca aperta guardate c'è un altro lì aiuto ragazzi è bellissimo fatti vedere bianco latte bellissimo vediamo un po' qui un altro oggetto di quelli che è bello come sei bello fatti pulire bene bella pulita pronto per la foto? vediamo un po' mamma mia ragazzi eh niente si si aggettivo libero aggettivo libero per questo ragazzi ci sta ci sta ragazzi vediamo un po' vediamo questa meraviglia meraviglia uuuuuh ma come sei bello sei bellissimo buona giornata in dimenticabile uno più bello guardate un due tre appena ho raccolto un altro non c'è niente da dire ragazzi nessun commento no commento sono inutili commenti eccoci qua qui c'è un altro non c'è niente da dire mamma mamma c'è da dire tre volte mamma mia una bella pulita una bella figura pulisci bene pulisci bene pulisci bene vediamo un po' scusiamo il sasso mamma mia uuuuuh uuuuuh uuuuh ragazzo mio come sei bello un altro molto interessante guardate come è la mia allora questo guardate che colore lo mettiamo qua poi guardate qua uno due tre quattro ci saranno ancora mamma mia proviamo via allora un altro prendiamo quello più grosso uuuuh ragazzi io sono perfetto poi abbiamo questo vediamo anche questo vediamo anche questo vai cinque altri piccoli chiudi chiudi ci sono due porcini bellissimi uno senza altro di imbalsamare l'altro è bellissimo allora vediamo un po' vi faccio vedere ci avviciniamo ci avviciniamo allora giù uno c'è questo ma mia che meraviglia che meraviglia e l'altro l'altro sono imbarazzato mamma mia ragazzi che emozione aiuto che emozione allora vediamo un po' com'è oh madonna mia ragazzi wow ecco funghi così si si questi sono ad aggettivo libero guardate che meraviglia guardate che forma che spettacola che emozione ragazzi che emozione che fortuna prendo anche l'altro mamma mia ragazzi che emozione altro momento ragazzi magico guardate che oggetto mamma mia mi ha accompagnato anche dal fratellino minore guardiamo che bello fatti sistemare una pulita fattina vediamo un po' bene pronto via vieni guardate il colore mamma mia bellissimo bellissimo fantastico il fratellino che ci posso controprire veramente attento il fratellino siamo abbastanza in alto guardate che meraviglia uno due piccoli lasciamo qui facciamo un po' questo si può prendere carino guardate dove nascono guardate questo è bello questo è bello guardate bellissimo guardate pronta mamma mia ragazzo il colore è bellissimo bellissimo la forma fredda è fredda bellissimo allora ragazzi qua c'è una che è una forma bellissima guardate che bello che colore vediamo questo è bianco lo facciamo questo è bianco io sono bellissimo io sono bellissimo allora questo colore lo facciamo guardate che legante ragazzi mi sembra mamma mia ragazzi mamma mia ragazzi eh sì aggettivo libero anche questo ragazzi vediamo qua anche qua è un posto bellissimo 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 è un altro oggetto bellissimo guardate che come sono i porcini palla porcini palla guardate guardate ah mamma mia ma come sei bello 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 aggettivo libero anche per questo senza ombra di dubbio qui lo portiamo al museo guardate guardate un po' guardate 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 questo questo è buon c'è cosa dire splendido allora vediamo quattro bombolotti di quelli bellissimi bellissimi c'è anche un gemellino sopra allora qua l'altro bombolotto vediamo questo bombolotto qui è un falso molto in alto guardate il colore dei porcini in alto è bellissimo guardate questo bombolotto è un falso molto in alto guardate il colore dei porcini in alto guardate guardate il colore c'è anche la forma oh mamma mia non è questo e poi c'è anche questo qua che colore ragazzi che colore il colore c'è anche in alto magari c'è negli altri scuame bellezza bellissima bellissima bello bellissima e qua vicino e qua vicino c'è un'altra bocciolotta ancora in alto e in effetti il colore come ho detto prima guardate il colore in alto questo è così è un colore è un po' di colore ecco allora ce ne sono cinque quasi contati Vediamo se li riprendiamo tutti allora uno più due quattro poi ce ne ho proprio un piccolino poi c'è l'ultima, poi c'è l'ultima, poi c'è l'ultima, poi c'è l'ultima, sempre di quelli scuri, poi c'è un altro, ecco l'ultima un altro qua, secondo me c'è un altro vediamo qua un bel rimbole bellissimo qua c'è l'ultima, l'ultima, l'ultima fatti vedere legantissimo, io sono legantissimo un'altra meraviglia perfetto faggio, media altezza mirtillo guardate che meraviglia uno due tre uno più bello dell'altro facciamo qua e raccogliamo chi ha? uno due un bel rimbio ma sei bellissimo sei bellissimo sei bellissimo prendo un tabulone e ecco fatti vedere fatti vedere quanto sei bello abbiamo un bel moritino bello 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 e questo è il cambole e questo è un piccolo guardate qua qui c'è un piccino e lo copriamo faggio medio alto con mirtillo vediamo se riusciamo a riprendere i famosi porcini pallargh a riprendere a riprendere